questo è il x-ray xp4 di bruno coelho come usato a l'euros 1-10 scale offroad in the uk in all its tech details a nicely prepared the machine coelho went on the podium with it fernandez x-ray gt machine 23 torres x-ray gt machine 23 ready to race e e e e e e Grazie a tutti